Trasformare il mondo, ha detto Marx, cambiare la vita, ha detto Rimbaud. Per noi queste due parole d'ordine fanno tutt'uno. Così André Breton, medico e poeta francese, delineava quelli che sarebbero stati i momenti principali del movimento surrealista, senza dubbio uno dei più seminali del XX secolo. Nel 1917 il poeta Guillaume Napolinaire aveva coniato il termine quando aveva definito la sua opera Le Mammelle di Tiresia un dramma surrealista. Scritti a due mani da Breton e Supot, i quaderni che compongono i campi magnetici costituiscono il primo consapevole esperimento letterario in cui le parole vengono depotenziate del loro valore comunicativo. Profondamente influenzato dai testi visionari di Isidore Ducasse, detto Conte di Valtremont e di Arthur Rimbaud, Breton si accosta rapidamente anche alle arti plastiche figurative, riconoscendo nella metafisica di De Chirico e nella pittura di Picasso e di Duchamp gli antisignali dello stile surrealista. Il requisito indispensabile per potersi freggiare il titolo di surrealista è quello di adottare qualsiasi mezzo espressivo per trascrivere in maniera più fedele possibile il fenomeno del sogno, sia ad occhi chiusi che ad occhi aperti. Le teorie psicoanalitiche esposte da Sigmund Freud nell'interpretazione dei sogni e nella psicopatologia della vita quotidiana vengono così adottate come fondamenta del primo manifesto surrealista pubblicato da Breton nel 1924. Il surrealismo, figlio della frenesia e dell'ombra. Ma di certo il surrealismo sarà ricordato soprattutto per il contributo dirompente apportato all'arte pittorica del XX secolo. In sintonia con il respiro plurale e morteplice del movimento che privilegia la poetica dell'io individuale svincolato dalla repressione del superiore razionale vengono a configurarsi due distinti filoni pittorici. Da una parte artisti come René Magrì, Paul Delvaux, Yves Tanguy e Salvador Dalì prendono le mosse da una pittura tradizionale rispettosa delle regole della prospettiva e della geometria euclidea. Una tecnica adottata per rappresentare in associazioni incongrue o deformanti oggetti, paesaggi e personaggi all'interno di una realtà concretamente irrazionale, come nel caso della pittura paranoico-critica di Salvador Dalì. Dall'altra parte abbiamo pittori come Max Herz, André Masson, Joan Lievaux e Hans Haub che preferiscono scartinare i canoni della pittura tradizionale introducendo nuovi spedienti tecnici come il grattage, il collage e il frottage al fine di rendere surreale la tecnica stessa. Dopo essere stato espulso dal gruppo surrealista sul finire degli anni 30, Salvador Dalì affermerà Freud cercava l'inconscio nelle opere di Leonardo e di Michelangelo e il conscio nelle opere dei surrealisti. Questa è la sentenza di morte del surrealismo come movimento. D'ora in avanti, esso potrà esistere solo come condizione dello spirito. D'ora in avanti, esso potrà esistere solo come condizione di lui. Grazie a tutti.